Ciao, non mi faccio i feri da un mese per studiare, vuoi vedere? Ciao, ti ricordi quando ho detto che durante le vacanze di Natale avrei studiato poco per volta organizzandomi? Non l'ho fatto, sto facendo tutto in questi ultimi giorni e non mi sento più gli occhi, XD! 7, 14, 21, 28, ma cos'è la tabellina del 7? No no, sono le date dei miei esami, eh eh 7, 14, 21, 28, come? Mi si vede lo stesso? Ah no, scusate, scusate che cerchiamo di scappare dalle mie responsabilità Niente, eccomi Allora, ragazzi scusate, tutti dicono che sono finite le vacanze Ma di quali vacanze parlano? Io non l'ho visto niente Ehi, cosa ti ha portato Babbo Natale? Soldi Ah sì? E i tuoi ti hanno dato qualcosa? Soldi Ma dai, e la pefana? Soldi E quanto hai ancora da parte? Niente I miei propositi di quest'anno? Eccoli qua Sì, lo so che c'è scritto anno 2005, ma tanto sono sempre quelli, non miglioro mai Ma scusa, ma com'è possibile che siamo al 7 gennaio? Ma non era ieri Natale? Vi giuro Natale, Capodanno, Gennaio sembrava fra due anni, non adesso Buongiorno professore, ha passato delle belle vacanze? Ah, bene, bene, io l'ho passata studiando la sua materia Ah, mi boccia! Che carino Che simpi Ma è una laurea Ma è una laurea Che carino Mi boccia! Che carino Che carino Le pesce mi